Una domenica nel segno dell'arte è accaduto la scorsa settimana nel prezioso scenario della Pinacoteca Nazionale in piazza Santa Caterina a Sassari. La musica è stata la protagonista della prima parte della giornata con il coro polifonico della Sardegna diretto dal maestro Gianni Mastino. Gli abituali frequentatori della stagione lirica sassarese, ma anche i profani della materia, hanno seguito con interesse la performance dei cantanti, voci potenti, maestose, che hanno echeggiato tra le volte del Palazzo Seicentesco, creando un'atmosfera magica proseguita con la visita dei presenti alle varie sale e alle loro esposizioni. Il pomeriggio è stata la volta della pittura, a contraddistingue del programma culturale. Per Domenico Magri è tenuto un laboratorio didattico intitolato Didarte 2020. Di fronte a una nutrita presenza di studiosi, il pittore milanesi ha mostrato dal vivo i passaggi della creazione di un'opera, partendo da tela e colori. Un'arte, quella di Magri, che parte da lontano e produce vibrazioni attraverso i cromatismi e la matericità, con l'obiettivo di rappresentare un microcosmo personale e al contempo universale. Un insieme di suggestioni di cui l'autore ha parlato, ripercorrendo la sua formazione artistica, quando giovanissimo frequentava la piazzetta di Brera a Milano dagli anni 70, con artisti del calibro di Carrà e di Fontana.